Il nostro ecosistema di ricerca e innovazione e abbiamo deciso di iniziare proprio con un focus dedicato alla Space Economy che è uno dei settori a più alto potenziale dove la campagna già esprime moltissime eccellenze sia come grandi imprese, medie imprese, start up, centri di ricerca e università e abbiamo il piacere di avere qui le rappresentanti della Commissione Europea che ci illustreranno le opportunità attualmente aperte in ambito Space Economy e cerchiamo attraverso questi momenti anche di networking di qualificare sempre più le nostre piccole e medie imprese e anche di promuovere una maggiore partecipazione insomma delle nostre imprese alle opportunità europee. Il Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale in particolare è una fuscina di innovazione nel mezzogiorno e nell'Italia. Il Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale sviluppa la ricerca aerospaziale e collabora con le imprese piccole, grandi, consolidate o start up per lo sviluppo di quella che è la spesa economica. So che il distretto industriale dell'aerospazio della regione Campania è molto attivo, molto vivo quindi mi fa piacere rendere partecipi proprio la comunità e appunto rendere partecipi sulle opportunità e siccome la Commissione Europea può continuare a sostenere l'innovazione anche qui nel distretto della Campania. Credo sia molto importante l'utilizzo dei dati spaziali perché apre delle importanti opportunità per tutte le aziende ma anche per il singolo cittadino quindi spero che avremo parecchie applicazioni ai nostri bandi e spero che ci siano delle ricadute importanti sul territorio utilizzando i dati spaziali per sviluppare nuove applicazioni e nuovi servizi ad alta tecnologia. Il settore aerospaziale è elemento di soluzioni, è portatore di idee, di innovazioni ed è in grado di proporre soluzioni che possono contribuire a una mobilità più sostenibile allo sviluppo di aerei non impattanti sull'ambiente all'uso dei satelliti per monitorare l'ambiente e per contrastare l'inquinamento. L'innovazione è il nostro volano di sviluppo evidentemente le nostre imprese sono riconosciute a livello internazionale proprio per la capacità innovativa che hanno e che tutti insieme dobbiamo supportare e sviluppare perché è dall'innovazione che deriva il futuro dei nostri giovani. L'innovazione è il nostro volano di sviluppo